Mi stava chiedendo Francesco D'amore a quanto abbiamo venduto gilet, da quello che so io 1,4. A mio avviso ho Irisoia, però quando sei in difficoltà... È un 31enne, 32 anni insomma, gilet. 31, 77. Ah sì, io so che il 79, poi... Allora, qua leggiamo dei messaggi, secondo me non aveva tanta voglia di rientrare Barreto, scrive Mario. Poi la Real Florida TV, ennesima pagliacciata, da quello che so io martedì prossimo però c'è un incontro con i rappresentanti del Bari, quindi aspettiamo un attimo prima di emettere sentenze. In bocca al lupo a gilet, grazie capitano, scrive Giuseppe. E poi con Barreto in campo forse il campionato sarebbe finito in maniera diversa. Beh, indubbiamente Barreto non lo scopriamo, è un giocatore che può darti molto, ma molto di più. Anche perché il Bari non aveva nessuna alternativa in attacco, obiettivamente. Non credi sia stato svalutato, gilet si chiede un amico, è un prezzo abbastanza basso, ma non dimentichiamo un particolare, che il Bari è con l'acqua alla gola e in questo momento e chiaramente le altre squadre ne approfittano. Dicono, vuoi i soldi? L'anno scorso avresti venduto sicuramente a... Siccome c'era il Torino di Ventura anche dietro Gilead. Oltre il sì, ecco perché c'è. Però se il Cairo si è arrabbiato con Gilead, non so per quale motivo. Ho detto grazie. Perché ha detto che è stato sfruttato per strappare un contratto più ricco in Serie A. In sostanza era quello il discorso, anche se Gilead al Torino sarebbe stato forse uno schiaffo ai tifosi del Bari, perché un conto è andare a giocare in Serie A, cioè un conto è rimanere in Serie B. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Nicola. Ciao Nicola, ciao. Ciao, grazie. Ok, Gilead è andato, ok, voltiamo pagina. Enzi, io riprendo il discorso che ha fatto il signore che ha chiamato prima. Sì. Io questo l'ho fatto già in passato. Cioè noi ci stiamo affossando troppo su quello che è il passato. Cioè non si prende mai, non c'è una reazione in città. Io oltre agli imprenditori del nord e in Stagnoli, io farei un appello agli imprenditori locali. Secondo me il gesto di Mattarese è proprio, adesso io mi faccio da parte, adesso voglio vedere che succede qui. Secondo me è proprio una sfida. perché evidentemente gli imprenditori locali, nessuno si interessa. Alla fine chi parla del Bari? I tifosi, voi giornalisti, cioè siamo chiusi. Però Nicola io credo che a prescindere da tutto ci sia un aspetto sul quale forse sarebbe giusto chiarire le cose. Quant'è il buco del Bari? Perché è chiaro che tu puoi dire io vendo una società a 0 Euro, però se il debito è 40 milioni di Euro, comprare una società in B, coprendo 40 milioni di Euro di debiti, perché io faccio fatica a credere che i giocatori tutto per tutto possano valere più di 15 milioni di Euro. Scusa Enzo, però ogni programma, la sua ambizione va pari con i costi, la gestione per i netti andava con una sticella puntata verso l'alto, quindi evidentemente anche gli introiti erano maggiori, televisivi, della vita, invece evidentemente si è abbassata l'asticella, cioè non si vuole alzare quella sticella, se tu gestisci il modo, come posso dire, verso il basso, è chiaro che poi gli introiti sono minori, è logico. Grazie Nicola per il tuo intervento, grazie per il tuo intervento, bene che l'asticella si sia abbassata, ma credo che abbia toccato addirittura terra l'asticella, credo che ci siano pochi dubbi, ecco perché si è parlato di anno zero, credo che in anno zero, io ricordo un po' quello che accade obiettivamente, non tanto quando retrocedemmo dalla B, dalla A alla B, questa stagione mi ricorda molto le premesse, quella nella quale eravamo scesi in Serie C, dopo, e venimo ripescati, mi ricorda un po' quando arrivò Carboni, che andavamo a prendere i giocatori dal fallimento della Viterbese, su queste premesse c'è una certa somiglianza tra questa stagione che sta per iniziare e quella scorsa. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Aspettiamo qualche istante, poi prendiamo la telefonata, intanto volevo ricordarvi che avremo un agosto molto intenso dal punto di vista calcistico, bello per certi versi ma un po' triste per altri, nel senso che avremo questa sorta di apoteosi, 10 agosto Italia-Spagna al San Nicola, 18 agosto trofeo team con Inter, Milan e Juventus con Conte che torna a sedersi sulla panchina del San Nicola dall'allenatore del Juventus, è come se un cerchio quella notte si chiuderà, insomma mette un po' di tristezza perché poi sappiamo esattamente che ci aspetta un periodo completamente diverso. Ci sarà il ritorno anche di Antonio Cassano, speriamo di vederlo con la maglia nazionale, il nostro Enfant Prodige, speriamo che quest'anno alla sole dei 29 anni ci faccia vedere qualcosa di bello. Tu che vai cercando sempre il giocatore bello, bravo, tra quelli che insomma sono tornati, quelli che è barrivo, ce n'è almeno uno che ti appassiona. Sì, a me piace Bellomo, l'ho visto anche nel Barletto qualche sprazzo, colui che mi fa fantasticare. Mi auguro che anche a livello di Serie B sapeva fare quei numeri che ha fatto in Serie C perché la differenza c'è molto di categoria. Cioè Bari è sempre stata una città che ha sempre amato i fantasisti, Maiellaro, io ricordo il Mario Fara insomma, per dire anche Protti se vuoi, andiamo ancora indietro Italo Flori, cioè abbiamo bisogno di calciatori che sappiano dare del tuo al pallone perché il pallone come diceva Eleni Herrera, lo dico anche al buon Tiziano, deve divenire come un fucile per ogni militare soldato, cioè la sfera, deve diventare una cosa bella, non aver paura di giocare al calcio, perché molti tecnici lo sbaglio che fanno è quello di pensare al fatto atletico, ma bisogna stare per giocare a calcio. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Andrea, chiamo da Bari. Ciao Andrea, ciao. Tre domande in una, con risposte velocissime da parte tua, vorrei sapere concretamente quante possibilità ci sono che usa Kepri Manga Bari, poi volevo sapere la situazione di Galasso e di Parisi e poi la cosa che mi interessa di più è capire se quest'anno si intende puntare su Frambelli, che comunque è un giocatore che quest'anno quando è stato chiamato in causa, vedi trasferta a Roma dove i telecomisti di Sky erano letteralmente giocò benissimo a Roma a Strambelli, giocò benissimo. Allora guarda, devo darti delle risposte molto veloci, Useclep se lo possono venderlo vendono, vendono anche Useclep, anche se Angelozzi se proprio potesse tenesse un giocatore, si tratterrebbe Useclep. Situazioni diverse, Parisi-Galasso, Parisi scadenza di contratto, quindi finita. Galasso invece ce l'ha ancora il contratto con i Bari, non so cosa potrà accadere perché anche Galasso non viaggia proprio basso, è un contratto, credo che sia l'ultimo anno di contratto, però viaggi sui 380-400, che non sono pochi. E poi anche Strambelli credo che abbia il contratto scaduto, quindi anche per lui futuro abbastanza incerto, non credo francamente a Bari, anche se devo dirti in questo contesto di Bari in Serie B, io Strambelli lo vedrei tranquillamente. Vabbè, Tiziano, tornando un po' a Barreto e Compagnabella, ti ha fatto capire, quindi hai detto Cagliari, aereo, niente. Niente. Russia, Russia si stabilisce lì l'aereo, ma anche in Russia. Russia, pare che i russi abbiano contattato lui e adesso stavano cercando il contatto con l'Udinese per mettersi d'accordo su un prezzo. La gente, sai cosa si chiede di Barreto e di tanti altri giocatori, di Barreto in particolare, come si fa nel caso di Barreto a non innamorarsi di tifosi del Bari? Cioè come si fa a non legarsi a vita ad una tifoseria che ti ha dato tutto? Io me lo chiedo a volte perché... A volte vedo anche i giocatori, mi ricordo l'Almiron di due stagioni fa che finisce con Amalia col cuore, ti ricordi quella festa di Barreto in Italia, cioè cuore in mano, si battono il petto. Il gol a Roma contro la Lazio, Almiron venne sottrappato. Come è possibile che non provino, no? Non so, io posso immaginare, non so che alla fine vada tutto ridimensionato, purtroppo ha un lavoro che è, non so, diventamente nella testa del giocatore, può servire solo a portare i soldi a casa, come il lavoro di ognuno di noi probabilmente, però non è sicuramente un'ottica troppo bella questa. Io credo che lui non si sia, cioè non è che non si sia innamorato del pubblico di Bari, si sia sentito, fra Mibeto è tradito, come del resto si è sentito tradito il pubblico di Bari, quando nessuno ha creduto al discorso dell'infortunio. Quando segnavo 15 gol, 20 gol, ero l'idolo, adesso che non sto bene non posso giocare, sono diventato un bugiardo. Vabbè, per chiudere con Francesco D'Amore, che ho trovato insolitamente depresso, precisticamente parlando, che ho sempre molto entusiasmo, provo a giocare un jolly, non ci hanno tolto tutto, magari fa la Serie B allo Stato della Vittoria. A questo punto sì. Non ti sentiresti un po' ringaluzzito? No, 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 sì, sarei propenso a tornare al Dere Vittoria, anche perché è più raccolto, io magari, cioè il comune, non so, ci vogliono chiedere il comune, la volontà della società. A questo campo, San Nicola, sempre si è diventato un peso, insopportabile. Molta gente, voglio dire, le quartiere di libertà, il quartiere dove ci abito, andava a piedi tranquillamente, col panino, con la cosiddetta bragiola, le polpette, era un rito quello di andare allo stadio a vedere la partita, ma anche la Serie C di Lossi, di Luciano Pirazzini. Potrebbe essere un tocco di fantasia, una cosa, facciamo questa cosa qua, magari facciamo una cosa diversa, ragazzi, fate qualcosa, perché veramente, immaginate il San Nicola, 60.000 posti con 3.000, 2.000 per social, fate qualcosa, SOS, fate qualcosa, a Bari non può essere questo il calcio, lo dico proprio col cuore in mano, non parla Lenzo D'Ambora giornalista, Lenzo D'Ambora tifoso, il calcio non può essere questo a Bari. Toglietevelo dalla testa, non può essere questo il calcio, quindi davvero inventatevi qualcosa, riaprite il della vittoria, non lo so, fate qualcosa che magari si può fare quando non ci sono molti soldi, ma che c'è un pizzico di inventiva, perché il calcio a Bari non può essere questo, lo dico subito. Stop, grazie Francesco D'Ambora, grazie al giovane collega Tiziano Tridente del Quotidiano di Bari, noi ci ritroviamo domani sempre insieme col Bianco e Rosso TV Sport, ciao! 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 Ciao!